Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars ed eccolo qui, Rico Boss Finale Eccolo finalmente, l'abbiamo sbloccato dopo due giornate di streaming, spero che mi abbiate seguito Ragazzi se ancora non lo fate seguitemi in streaming sia qua su YouTube che sul sito Viola, link nel link tri qua sotto come sempre Proprio perché ci ho fatto due streaming non penso che ci farà un video dedicato quindi ve lo mostro oggi E vi delizio in sottofondo questo video ancora con qualche gameplay Mentre vi racconto una ennesima notizia bomba che esce su Brawl, anche per questo che non vi porto un video dedicato su Rico Perché in questo momento ogni giorno c'è qualcosa di assurdo su Brawl Ieri ragazzi abbiamo parlato di questo, della skin di Stu che è uscita così fuori dal cilindro Se ve la siete persa andatela a recuperare Per non parlare del video del 4 di gennaio che avete visto in più di 70.000 E mi riferisco ovviamente alla reazione alla prima season 2024 di Brawl, nonché il nuovo Brawl Pass Pass che ho ottenuto gratuitamente ragazzi So che molti di voi già conoscono questa storia ma ve la devo rispiegare brevemente Altrimenti non capirete il mega bug di cui parleremo oggi Un po' di tempo fa realizzai questo video dove shoppavo un anno intero di Brawl Pass E per fare ciò utilizzavo il Supercell Store Essendo che su Brawl si può acquistare solo un pass alla volta man mano che escono le season Il Supercell Store invece permette di acquistare più pass consecutivamente E non solo, c'è anche una convenienza economica Dateci un'occhiata come sempre nel link qua sotto in descrizione nel link 3 Supercell Store, codice ferro che si può utilizzare anche lì Ah a proposito, le premesse quasi mi dimentico Ormai conto su di voi il like Arriviamo a 4.000 like Poi oh, se vogliamo fare 5.000 Come le gemme di cui parliamo oggi sarebbe il top Ma so che 5.000 è veramente tanto Vi deve piacere veramente tanto questo bug Ma io come sempre quando scopo qualcosa ve lo porto ragazzi E quindi a proposito, iscrizione per rimanere aggiornati con la campanella OZ Fatto sta che acquistando 6 pass che prima avevano la durata di 2 mesi Ho acquistato letteralmente un anno intero di pass Ma ai tempi non sapevo che Brawl Stars avrebbe introdotto i pass come li conosciamo adesso Ovvero da un mese e divisi Pass normali e pass plus Quindi in qualche modo i pass che avevo comprato Almeno una parte andavano convertiti E sarebbero stati convertiti in Brawl Pass Plus Esatto, pass normali che diventano Brawl Pass Plus Infatti se il gioco avesse convertito i miei vecchi pass in pass normali sempre Mi avrebbe fondamentalmente tolto dei pass da 2 mesi Per darmi dei pass da 1 mese E che da 11,99€ adesso hanno un costo di 7,99€ Quindi mi avrebbe anche scammato 4€ E quindi Supercell ha deciso di sostituire i vecchi pass per chi li ha accumulati In Brawl Pass Plus che hanno sempre un costo di 11,99€ Quindi in realtà capirete bene che sostituire i vecchi pass in pass plus è la cosa migliore Serviva solamente un sistema che convertisse i pass normali appunto in pass plus Ed ecco il patatrack del bug di oggi Nei primi momenti dopo il rilascio della nuova stagione E la messa online di tutto, nuovi pass, Supercell Store Insomma si è creato sto bug Ovvero che il pass normale da 2 mesi si convertiva comunque in un pass normale da 1 mese E quindi oltre ai 4€ scammati Se avessi poi voluto il pass plus avrei dovuto pagare altri 5€ per potenziare il pass normale Insomma mi scammavano 9€ Quindi Brawl Stars ha realizzato una manutenzione molto veloce per sistemare il problema E in game abbiamo anche una patch note di questa cosa Che come sempre è passata un po' inosservata ma non all'occhio vigile del vostro ferre Qua appunto spiegano un pochettino tutto quello che vi ho detto Ma tra le varie cose viene detto Risolto il problema per cui ricevevi una grande quantità di gemme acquistando 2 volte il Brawl Pass What? Proprio così c'era un bug che permetteva di ottenere un grande quantitativo di gemme Qua non sono molto precisi ma tranquilli perché ho scovato altro Acquistando 2 volte il pass Bene Su Twitter ho trovato questo Un ragazzo di nome Spike che scrive Se cambi account prima di completare l'acquisto del Brawl Pass sul tuo iPhone Riceverai 5000 gemme Correggete il bug e recuperate le gemme con l'emoji che piange Allega ovviamente delle screen Proprio qua si vede un rimborso di 5000 gemme dato dal gioco E un saldo gemme ragazzi lo possiamo vedere da 6148 Questo non è una cavolata anche perché tra le risposte c'è il commento di Dani che gli scrive Oh boy ti ho scritto in privato insomma vabbè ci sentiamo in privato C'è anche Frakitor qua nei commenti tra l'altro E avevo visto un ragazzo che scriveva Ma no ma perché hai rivelato questa cosa dovevi tenertelo per te Perché appunto i modi per ottenere queste fantomatiche gemme potrebbero essere stati addirittura 2 Beh ragazzi se qualcuno pensa che questa sia una fortuna Beh vi dico che in realtà non è così anzi potrebbe costarvi l'account Sì anche se non è colpa vostra Questa cosa infatti era già capitata molto tempo fa a un nostro amico il buon omen Realizzai anche dei video a riguardo Ricevette un rimborso di 11120 gemme Ecco qua il video se non ci credete potete andarlo a recuperare ve lo lascio anche in descrizione Tutto molto bello tutto molto figo Se non fosse che dopo non molto tempo realizzai anche quest'altro video Ovvero ricevette un messaggio di revoca gemme di pari importo Quindi il suo saldo gemme andò in negativo E se qualcuno si crede un furbetto perché Ah io ho tanto le gemme ormai le spese Chi se ne frega se scendo sotto le 11.000 O sotto di 5.000 Beh sappiate che se un account che ha un saldo negativo in gemme Non lo salda Il gioco può decidere di farlo chiudere Quindi potete perdere l'intero account Quindi quando ricevete delle gemme in maniera molto strana come in questo caso Non spendetele perché probabilmente nel gioco di qualche giorno Qualche settimana magari perché adesso molta della forza lavoro di Supercell è in ferie giustamente Comunque non essendoci più tutta quella forza lavoro è normale che questo tipo di bug Possono essere risolti anche Beh la manutenzione è arrivata molto in fretta ma possono volerci un po' di giorni magari Per andare a togliere le gemme a chi le ha ricevute ingiustamente E chi ha le gemme deve stare attento perché se le spende per sbaglio Poi il saldo va in negativo Perché le 5.000 gemme come arrivano poi se ne vanno E poi io già lo so che mi venite a scrivere in DM Sono pieno di messaggi di gente che ha fatto dei pasticci sull'account E ha il saldo gemme negativo E poi giustamente non è che scriva l'assistenza Mi scriva me in DM Io ragazzi ve lo ripeto per l'ennesima volta È sempre utile ricordarvelo Non sono l'assistenza sono un creator Sono un giocatore come voi Se avete problemi andate su Brawl Impostazioni Contattate l'assistenza Non ci sono scorciatoie Assistenza e risolvete il problema Piuttosto se avete delle domande e non riesco magari a rispondervi in DM Proprio perché ci sono persone che mi scrivono scambiandomi per l'assistenza Vi ricordo di passare ancora una volta in streaming Dove anche lì per forza di cose non vi riuscirò mai a leggere tutti Ma cerco di avere giustamente un'interazione più forte con voi Quindi passate in stream Vi aspetto Anche perché voglio dire Cioè vi ritrovate qualcosa come 250€ di gemme sul vostro account Cioè persino io che ho 3000 gemme se non sbaglio sul mio account in questo momento Vedo questo saldo e dico Oh mio Dio è veramente tanto Io non posso immaginare un player no jamming che vede questo saldo gemme Che cosa può pensare I soldi non piovono dal cielo Ecco la lezione di oggi Però molti magari si domanderanno Ma perché 5000 gemme? Perché proprio 5000? Cioè Brawl Stars ha preventivato un rimborso di 5000 gemme? In realtà questo è difficile da spiegare in effetti Ma probabilmente Essendo questo considerato dal gioco come il rimborso di un intero pass È possibile che il gioco dia il valore di 5000 gemme a un Brawl Pass Il che ci potrebbe anche stare Perché il Brawl Pass in effetti ha poi tantissime ricompense al suo interno Però chi ha fatto questo bug avrà speso circa 10 euro Quindi se con 10 euro vi arriva una ricompensa da 5000 gemme che sono 250 euro Magari uno può farsi delle domande Ecco Però ecco questa è un po' la prova Che come vi dico sempre Secondo me nonostante il fatto che non si possa più prendere in gemme Il pass resta la cosa migliore da shoppare su Brawl Stars Quindi per chi shoppa Disclaimer Secondo me resta la cosa migliore Non tanto da chiedersi pass plus o pass normale Ma cosa posso prendere con regolarità Se ogni mese posso prendermi il pass plus Allora ben venga il pass plus Ma se il pass plus è una spesa poi troppo onerosa Meglio ripiegare su un pass normale Ma prenderlo con costanza nel tempo Con la solita premessa Shoppate responsabilmente Mi raccomando E qualcuno dice ferre Mi raccomando anche lì Colgo l'occasione tra l'altro Per mostrarvi un'ultimissima ciliegina Ovvero che dopo tutto questo minestrone Hanno sistemato anche il Supercell Store Infatti ora se andiamo sul Supercell Store Vi ricordo che vi lascio il link Nel primo link in descrizione Nel link 3 E premiamo su Brawl Stars Eccolo qua ragazzi Troviamo la sezione aggiornata Che non ha più il pass normale Ma ha il pass plus Quindi Dal Supercell Store non si può comprare il pass normale Ok ma si può prendere quello plus Cosa che però io per il momento non farò Uno perché ne ho già accumulati un po' Come vi raccontavo all'inizio del video E due perché tutte le offerte in gemme E anche il pass precedente Hanno una convenienza come vi dicevo Essere acquistate qua Ad esempio 2000 gemme Sul Supercell Store ve ne danno 2200 Ma il pass plus Ha sempre un costo di 11,99 euro Quindi l'unico vantaggio che c'è in questo momento Ad acquistarlo qui È il poterlo accumulare Ma perché accumularlo Se magari un domani Potrebbero mettere anche qua delle offerte Io per il momento non faccio niente Quindi poche parole Per il momento Non mi sento di consigliare Questo tipo di scioppata A chi magari non voglia accumulare Più mesi di pass come ho fatto io Con questo ragazzi Siamo giù dal termine di questo video Carico di informazioni Spero che vi sia tornato utile Magari anche solo per condividerle Con qualche vostro amico Non dimenticate l'iscrizione al canale Con la campanellina Perché arriveranno altri video Belli, corposi come questo O delle chicchette in cana per voi Quindi non mancate Vi aspetto presto ragazzi Un saluto da tutti E ciao belli